Il mio nome è Luigi e sono uno dei soci dell'azienda La Croce e io mi occupo di amministrazione. Il futuro sicuramente non sarà facile perché la concorrenza è sempre maggiore, nascono 9 democrazioni, però noi cerchiamo anche con l'aiuto del consorzio del Chiantilassico di tenere alto questo livello perché la cosa che ci aiuta molto è anche il territorio a cui apparteniamo, poi l'altissima quantità dei vini che vengono prodotti e quindi noi siamo molto ottimisti e molto fiduciosi che riusciremo sempre a trovare uno spazio in questo mondo molto complesso del vino. La caratteristica principale di un buon vignaiolo è mantenere l'umiltà, quindi le origini, pensarlo come dal campo, praticamente tutto il lavoro che dobbiamo fare sull'uva, su far crescere l'uva, curare le piante e poi logicamente trasformarlo in cantina con la miglior tecnologia e riuscire a farlo apprezzare alle persone e a un pubblico esterno. Quindi un vignaiolo deve essere diciamo versatile, deve essere in grado di stare nel campo e controllare che tutto vada bene dell'uva e della vite, ma deve essere anche in grado di confrontarsi con realtà importanti e con le persone mettersi a confronto e di sapere spiegare il suo prodotto.